Se c'è un piatto che racchiude tutto l'animo della cucina napoletana è Sassicci e Friarielli. E' perfetto per chi ama i sapori forti e rustici. Quindi, come dicono a Napoli, facimmo l'anzien. Iniziamo dall'anima di questa ricetta, i Friarielli. Togliamo via le foglie grandi e anche le parti ingiallite, fiorellini, queste cose non si mangiano. Anche i gambi, quelli più grandi e duri. Quindi le cose da scartare sono i gambi, i fiori e queste foglie grandi che risulterebbero amare in cottura. Quindi continuiamo a pulirli così. E adesso li laviamo bene bene. Friarelli pronti. Ora, olio, aglio e peperoncino. Se non ti piace il piccante, puoi anche evitarlo. Però, come diceva mio nonno, rin di Friarielli ci vuoi forti. Togliamo l'aglio e aggiungiamo i Friarielli. Adesso copriamo e lasciamo cuocere 10 minuti a fiamma bassa, così si ammorbidiscono. Mentre cuociono, sentirai un odore in cucina fantastico. Senti, nell'aria c'è già l'adori Friarielli che ha fatto mamma. Fenomenale. Comunque, ricordati sempre di girarli, altrimenti si attaccano. Coprili e lasciali cuocere. Ah, e dimenticavo. Clicca su iscriviti, così non ti perderai altre ricette belle, buone come questa e soprattutto le mie doti canore. Intanto che i Friarielli finiscono di cuocere, in una padella a parte ci facciamo le salsicce. Metto un filo d'olio. Devono diventare così, belle abbronzate, voilà! Questo è il barbecue napoletano! E adesso le sfumiamo col vino bianco. Quando il liquido di cottura si è ridotto, vuol dire che le salsicce sono pronte per essere tuffate nei Friarielli. Et voilà! Mi raccomando, non buttare via il sughetto, è la parte migliore. Lasciali cuocere insieme per qualche minuto, così i sapori si amalgamano perfettamente. Mmm, che odorino! Amor tra salsicce e cofriarielli. Comunque sono pronte e le serviamo adesso. Già così sono perfette, però se le metti in mezzo a un pezzo di pane è la morte sua! Wow, questo è l'hot dog napoletana! Oh sì! Mmm, questo è un assaggio! Facciamo una cosa, la prossima ricetta la decidi tu. Scrivi nei commenti cosa vuoi vedere. Noi ci vediamo! Ciao!